...egyptian style, Hotel de Bouarnay, is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A Estribor, il Mario Saint-Germain. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, la di Francia, che mise fine alle guerre di religioni. A Babor, le palais de justice, reconstruite par Napoléon III. Buon appetito al Jidale, Campolino e Sancto, Saifu. Sancti-rui, Sancti-ri, Sancti-ri, Sancti-ri. Che liparo, campata da Sancti-ri. Che liparo ii, Sancti-ri. Taحت, Sancti-ri. Saifu. Che liparo seassen. La sprao gartano, ca. Ardeno, Caracol is a Riton, Chi. Saifu. Saifu.